Questo video è dedicato a chi sta valutando, per la prima volta, di fare pubblicità online a pagamento su Facebook o Google e pensa di investire un budget minimo intendo circa 10-20 euro giornalieri o tra i 300 e 500 euro mensili. Sotto questo budget io ti sconsiglio, è come mettere un manifesto in tutta la città e sperare che arrivino più clienti. Bene, in questa situazione di budget minimo, diciamo sperimentale, la domanda che mi arriva spesso è, meglio fare annunci con Facebook Ads o Google Ads? Ti consiglio di creare annunci Google Ads, cioè questi, quando pensi che il tuo cliente sa bene cosa vuole, ovvero quando il tuo cliente è un tipo attivo, sta cercando informazioni per risolvere un suo preciso problema. Se mi si rompe un tubo in casa, andrò probabilmente su Google a cercare idraulico riparazione tubi, piuttosto che andare su Facebook. Su Facebook magari chiedo a qualche amico, ma questo è fuori dalle dinamiche di annunci a pagamento. Come costi, gli annunci su Google sono generalmente più cari di quelli di Facebook Ads, ma in termini di CTR e numero di conversioni ottenute, è Google ad avere la meglio. La sigla CTR vuol dire tassa di click su un tot di annunci mostrati. È un numero che ti indica la performance di un annuncio. Ad esempio, in una campagna in cui offrivo la creazione di siti web, la tassa CTR su Google è stata di 2,58%. Gli stessi contenuti su Facebook Ads hanno invece ottenuto un CTR di 0,50%. Ed allora, quando usare Facebook solo perché costa meno? No! Su Facebook, tendenzialmente, le persone vanno per svagarsi. Tessere relazioni, non per cercare attivamente soluzioni. L'utente Facebook è più passivo, quindi Facebook è più adatto alle aziende che hanno bisogno di far conoscere il proprio brand, oppure far conoscere un servizio di cui le persone non immaginano l'utilità. Si può arrivare a vendere molto bene su Facebook, ma la campagna richiede qualche passaggio e follow-up in più. In poche parole, se devi vendere è più diretto Google Ads, a miglior qualità di traffico, Mentre se vuoi aumentare la tua visibilità e poi vendere, conviene Facebook. Per maggiori informazioni vai a questo indirizzo.